La scuola in Toscana è ormai cominciata, ma 700 cattedre in provincia di Firenze sono ancora senza docente. Il provveditorato ha infatti accumulato ritardi nell'assegnazione degli incarichi e questo pesa, oltre che sulle famiglie e sui ragazzi che in questi primi giorni avranno orari ridotti, sulle centinaia di insegnanti precari che, in attesa di sapere dove saranno collocati quest'anno, si sono ritrovati al Circolo Andrea del Sarto per fare il punto sulle future iniziative. Anche perché dal provveditorato assicurano che le nomine arriveranno entro il 19 settembre, ma il rischio che si vada oltre è concreto. È difficile che queste operazioni vengano svolte nel giro di meno di una settimana. Quando abbiamo chiesto cosa può accadere se le operazioni non vengono svolte entro il 19, il dirigente dell'USR, dell'ufficio scolastico regionale, ha risposto che potrebbero essere rinviate il 1 ottobre perché la città sarà bloccata dai mondiali di ciclismo. Per questo le scuole stanno correndo ai ripari, chiamando direttamente i precari dalle graduatorie di istituto per sostituire i futuri titolari fino alla definitiva assegnazione, che significa per gli insegnanti fare da tappabuchi per qualche giorno, con la certezza di perdere il diritto all'indenità di disoccupazione e il rischio di venire poi spostati da una scuola all'altra. Una delle azioni che vorremmo proporre è quella di chiedere ai nostri colleghi precari solo quelli che possono veramente permetterselo, perché poi le situazioni di ciascuno sono diversificate, non è sempre possibile, di non accettare la prima convocazione da quell'istituto. Questo per far sentire anche alle scuole il disagio dovuto ad una mala gestione da parte degli uffici scolastici che, dicono i precari, si ripete ogni anno.